Cominciamo dunque questo nostro intervento, questa conferenza online sull'illuminismo napoletano del XVIII secolo. All'inizio del XVIII secolo il regno delle due Sicilie si trovava in una situazione ambigua. La sua struttura politica era un compromesso tra i resti del vecchio Stato feudale, ereditato dal Medioevo, ma aggiornato dalla controriforma, e le primizie del nuovo Stato moderno avviato dal Rinascimento e dal giusnaturalismo protestante. Lungo l'intero XVIII secolo si stava realizzando quello stupefacente cambiamento di cultura e di mentalità che è stato così ben descritto dallo storico Paul Hazard nel suo celebre studio La crisi della coscienza europea. Ormai anche le monarchie conservatrici erano sedotte dallo spirito del secolo e si deliguavano alla nuova scienza sperimentale, alla filosofia del razionalismo, alla politica dell'assolutismo e all'economia del mercantilismo. Pertanto anche la corte e i governi spagnoli e napoletani erano infranciosati, come si diceva allora, ossia seguivano le mode francesi, tentando di imitare il prestigioso modello politico del re sole. Per tutto il risultato avvenne il graduale passaggio del regno delle Sicilie dallo stato contro-riformistico a quello assolutistico, favorito dal fermento intellettuale e politico dell'illuminismo, che ebbe uno dei suoi centri proprio a Napoli. Qui infatti una riforma antitradizionale e antiecclesiale del regno fu progettata e promossa da una potente lobby, oggi la chiameremmo così, lobby composta da politici, giuristi, avvocati e docenti, tanto celebrati allora quanto dimenticati oggi. Le testimonianze contemporanee dimostrano che il re Carlo III di Borbone era un sovrano riformista, ma cauto verso le novità dell'epoca, e che sua moglie, la regina Maria Amalia, ne diffidava, tanto che entrambi erano occultamente criticati come bigotti da molti esponenti dell'illuminismo napoletano. Pur essendo un sovrano assoluto, Carlo non amava imporsi nella gestione governativa e si limitava a supervisionare le attività dei consigli di Stato. Per questo si circondò di valenti collaboratori ai quali concesse notevole libertà e autonomia. Purtroppo, fra questi collaboratori, Carlo scelse o tollerò segretari, ministri, magistrati, giuristi e docenti appartenenti o legati a quell'ambiente illuminista che costituì la ardente falange antiromana, come la chiamava Croce, ossia il partito degli intellettuali in soccorso dei governi, come l'ha chiamato Galasso. Questo partito degli intellettuali era formato da teologi, filosofi, giuristi ed economisti. Il partito illuminista si diffuse a partire dalla classe degli avvocati, dalle cattedre universitarie, dalle società letterarie, dalle istituzioni culturali, come l'Arcadia, l'Accademia Palatina, l'Accademia degli speculatori, e anche si diffuse a partire da lobby di amministratori e imprenditori, come il Circolo degli Investiganti e il Circolo diretto da Bartolomeo Intieri. Napoletane furono invece le persone, le personalità intellettuali più influenti del regno. Dapprima Pietro Giannone, Costantino Grimaldi, Gaetano Argento e Paolo Mattia Doria, avviarono il progetto modernizzante e irreligioso, che poi fu perfezionato da Gianvincenzo Gravina, Giuseppe Palmieri, Monsignor Celestino Galiani, quest'ultimo era cappellano maggiore di Napoli e arcivescovo di Taranto, da suo nipote, l'abate Ferdinando Galiani, da padre Antonio Genovesi, Melchiore Delfico, Carlo Antonio Broggia e Giuseppe Orlandi. Costoro prepararono la successiva azione di epigoni, come padre Francesco Longano, Gaetano Filangeri, Giuseppe Galanti e Francesco Pagano. La figura più strana e inquietante fu ovviamente quella di Raimondo di Sangro, principe di San Severo, stratega militare, chimico e alchimista e soprattutto gran maestro della massoneria napoletana. Va notato che questi ambienti furono abili nell'usare non solo le sottigliette del diritto e le trame della politica, ma anche i mezzi propagandistici dall'epoca, ritenuti utili per diffondere la nuova sensibilità illuminata. Questi ambienti ad esempio favorirono il nascente giornalismo, la stampa anticlericale, la satira pure anticlericale, la letteratura informatrice di carattere moralistico. E anche il teatro. Per esempio Mario Pagano scrisse non solo trattati, ma anche commedia teatrali. Questi intellettuali si abbeverarono a fonti straniere e avvelenate. Nel campo scientifico essi applicavano la riforma metodologica progettata in Inghilterra da Francis Bacon, Francesco Bacone, e in Italia da Galileo Galilei. Nel campo filosofico il loro punto di riferimento era la riforma del sapere, avviata in Francia da Cartesio, e soprattutto dai suoi epigoni sensisti come Gassandi o empiristi come Locke. Nel campo religioso era la riforma della teologia avviata dalla corrente protestante del deismo, la loro fonte. Soprattutto il deismo inglese di Collins e Tolland. Nel campo giuridico era la riforma del diritto avviata in Olanda da giusnaturalismo scettico di Grozio, Altusio e Pufendorf. Nel campo politico il modello da imitare era lo status assoluto e accentratore di Luigi XIV, re di Francia, il re sole. Come si vede questa pretesa scuola napoletana del XVIII secolo ebbe origini in realtà nordiche come fonti perlomeno. Cioè olandesi, inglesi e soprattutto francesi. Queste fonti straniere furono diffuse nel regno napoletano fin dalla fine del 1600, ad esempio da filosofi giuristi come Francesco d'Andrea e Giuseppe Valletta. Bisogna aggiungere che alla corrente moderata di questo partito godette della benovelenza di una certa benevolenza anche a Roma da parte del papa riformatore Benedetto XIV. Influenzati dall'ottimistico clima dell'epoca settecentesca, gli intellettuali illuministi napoletani avevano grandi ambizioni. Nel 1754 Antonio Genovesi, celebre giurista ed economista, espresse la convinzione che l'illuminismo napoletano stesse per inaugurare un secolo aureo, un secolo che avrebbe assicurato il triunfo della cultura, del benessere e della pace. Come lo credeva in quegli anni anche Voltaire, poco prima della tragedia rivoluzionaria francese. Ferdinando Galiani crisse significativamente, il regno napolitano è edifizio da farsi, non cosa già fatta. E quindi Galiani anticipò la famosa frase di Massimo D'Azeglio sul popolo italiano ancora tutto da fare. Solo che D'Azeglio pretendeva di riducare il popolo con la cultura idealistica e liberale. Galiani invece con il razionalismo cartesiano, lo scientismo newtoniano e la politica machiavellica. Ovviamente non tutti gli intellettuali importanti di quell'epoca furono illuminati. Ad esempio i dotti teologi dominicani Tommaso Ferrari e Tommaso Maria Mamacchi, il popolare vescovo letterato Sant'Alfonso Maria de Liguori e il prestigioso giurista Domenico Aulisio si impegnarono nel difendere la rivelazione biblica, le tradizioni cristiane e il diritto ecclesiastico dalla critica distolutrice tentata dagli intellettuali illuministi. Una figura a parte non classificabile fu quella di Gian Battista Vico, non a caso il maggiore intellettuale meridionale dell'epoca, l'unico il cui insegnamento abbia superato l'usura del tempo e abbia ottenuto rinnovanza internazionale, sebbene tardiva. Pur essendo in favore di moderate riforme, Vico restò estraneo al nascente partito illuminista, anche per via del suo anticartesianismo, ma soprattutto per merito della sua fede cattolica e della sua mentalità controriformistica. Alcuni suoi allievi invece scivolarono nella filosofia e nella politica illuministiche e alcuni discepoli, anche tardivi come Cuoco, parteciparono alle rivolte antiborboniche del 1799. Bisogna tuttavia ammettere che il partito illuminista si approfittò dell'occasione storica offertagli dalla precaria situazione del Regno di Napoli, situazione che esigeva una riforma innanzitutto morale, ma anche giuridica e sociale, specialmente nel settore economico. Alcuni provvedimenti proposti dagli illuministi erano condivisi da molti esperti dell'epoca, anche di opposto orientamento culturale. Ad esempio, fu certamente necessario incoraggiare la capacità imprenditoriale del ceto borghese, incrementare la produzione di manufatti, favorire la proprietà rurale, rinnovare il catasto, sbloccare l'accumulazione improduttiva di terre e di capitali, favorire la circolazione del denaro, liberalizzare il commercio sopprimendo le doggane interne, proteggersi dalla intrusione di merci straniere, mettere le nuove tecniche produttive al servizio delle classi operose, fare intervenire lo Stato come regolatore della vita economica al fine di rimuovere ostacoli e correggere storture. Il partito intellettuale aveva in media sostanzialmente due nemici, la feudalità residua nello Stato borbolico e soprattutto la influenza morale e politica della Chiesa Cattolica. Pertanto il partito intellettuale si impegnò in due riforme parallele, appunto quella del sistema politico-assolutistico feudale e la riforma della cultura religiosa contro-riformistica. Vediamo separatamente questi due impegni. Un primo nemico dell'illuminismo napoletano era, come ho accennato, il sistema feudale sopravvissuto nel governo e soprattutto nell'amministrazione locale del regno di Natoli. Sia la corte regia che l'alta nobiltà erano influenzate da una teoria politica nota come regalismo, secondo la quale la sovranità regale deve inglobare le altre forme del potere, sia temporale che spirituale, mettendola al servizio della ragione di Stato alla fine di assicurare la solidità e la prosperità del regno. La giurisdizione regia, quindi, secondo questa teoria, doveva inglobare tutte le prerogative regie e statali in materia legislativa, giudiziaria e amministrativa. I giuristi illuministi pretendevano che nessun potere pubblico o privato, laico o ecclesiattico, potesse controllare e tantomeno ostacolare quello monarchico. In pratica, essi credevano che per salvaguardare la monarchia bisognasse centralizzare il potere giudiziario e amministrativo dello Stato, per cui bisognasse indebolire il potere periferico delle corti giudiziarie, il potere della nobiltà provinciale, il potere delle autonomie locali e corporative, sia aristocratiche che ecclesiastiche. A questo scopo il governo cercò di favorire la nobiltà cortigiana e cittadina, a tutto danno della nobiltà togata e di quella di provincia. Pertanto, il governo si autorò progressivamente degli incarichi amministrativi, sia i baroni che i vescovi e gli abati, tranne ovviamente quelli asserviti al governo stesso. Ad esempio favorì la privatizzazione e la commercializzazione dei feudi. Si tentò cioè di trasformare la nobiltà baronale in una classe proprietaria e produttiva, inserita in un nuovo sistema commerciale, chiuso. Come disse il funzionario regio, padre Ferdinando Galiani, Gli baroni saranno intesi e che vuol dire i baroni saranno ascoltati dal re, ma non avranno diritto di niente ordinare, molto meno avranno diritto di ordinare i vescovi e gli ecclesiastici. Tutto dovrà proporsi dagli ingegneri e poi risolversi e ordinarsi dal re. Queste riforme furono realizzate mediante cambiamenti parziali e graduali, ma decisivi, al fine di imporre un ordinamento giuridico generale uguale per tutti, abolendo essenzioni e privilegi, senza distinzioni di Stato e di Ceto. Come diceva Pagano, bisogna correre con la fiaccola in mano della filosofia per entro le tenebre del foro. Ad esempio ci fu la sostituzione del rappresentativo consiglio collaterale col centralizzatore consiglio di Stato. Ci fu l'inglobamento dei fori giudiziari e delle corti feudali nel sistema burocratico statale. I giuristi sostituirono il diritto feudale, quello consuetudinario e quello canonico, col nuovo diritto giusnaturalistico, ispirato dall'artificiale ricupero del diritto romano antico. Infatti il centralismo del diritto romano antico permetteva di negare l'autonomia giurisdizionale della nobiltà e soprattutto quella del clero. E in questo appunto consisteva la teoria giuridica del giurisdizionalismo regio. Più in generale, il partito illuminista mirava a ridurre l'etica sociale alla ricerca della utilità pubblica, particolarmente di quella economica. La sola utilità di tenuta decisiva per procurare la felicità del popolo. Alla base della società, secondo questa tesi, non c'è una natura sociale dell'uomo, ma un patto sociale, semmai, o un patto di civiltà, per equilibrare gli interessi contrastanti tra le classi economiche, come proclamava il fiscalista Broggia. A questo scopo, nel 1782, a compimento del riformismo illuminato, il re istituì il Supremo Consiglio delle Finanze, al quale parteciparono esperti come Domenico Grimaldi, Gaetano Filangeri, Giuseppe Palmieri e Domenico Di Gennaro, non a caso tutti, del partito illuminato. Nonostante fosse apparentemente impegnato in attività concrete, l'illuminismo napoletano, per confessione del suo storico ed estimatore Benedetto Croce, era caratterizzato dalle tipiche ingenuità del razionalismo settecentesco, ossia genericità, astrattezza, universalismo, burocratismo, umanitarismo, moralismo, scarso senso della storia. Ripeto, confessioni dello stesso Benedetto Croce. Fu anche questo a rendere il partito intellettuale estraneo alla mentalità e alla sensibilità del popolo napoletano. Solo verso la fine dell'epopea illuminista, alcuni esponenti del partito intellettuale, come il padre Longano, ammisero che l'accentramento dello Stato stava favorendo una nuova forma di tirannia e che la crisi del feudalesimo stava favorendo una nuova classe di tra virgolette galantuomini, arricchiti e prepotenti che invece di arginare privilegi e ingiustizie e soprusi ne stavano producendo di più gravi, proprio a danno del popolo. Bisogna notare che il riformismo illuminista non era genuinamente napoletano, come abbiamo visto, ma imitava il modello statale francese, quello giuridico olandese, quello economico inglese e quello culturale anglo-francese. E questo non solo nella teoria ma anche nella pratica almeno iniziale. Infatti, i promotori di queste riforme di carattere illuministico venivano dalla Spagna e dalla Toscana. Infatti, spagnoli ne furono i preparatori, il conte di San Esteban e il Marchesi di Montealegre. E Toscana ne fu il principale esecutore, il potente segretario ministro del re Bernardo Tanucci, la cui abilità e furbizia in campo sia politico che diplomatico è paragonabile a quella del Cavour. Il partito intellettuale faceva finta di voler imitare solo l'influenza politica della Chiesa. In realtà ne voleva servire l'influenza morale anche e perfino quella spirituale per trasformare la religione cristiana cattolica da fattore di superstizione come dicevano allora e di arretratezza a fattore di civiltà e di progresso. Per contrastare l'influenza morale civile della Chiesa il partito illuminista si impegnò in una lunga azione di insinuazioni calugne complotti e sopprusi contro il papato da Santa Romana Inquisizione e particolarmente l'Ordine dei Gesuiti nonostante molti di questi intellettuali fossero sacerdoti e anzi nonostante alcuni di loro fossero stati allievi proprio dei collegi gesuitici probabilmente i migliori del regno. il motto illuminista era Tanquam Roma non es come se Roma non esistesse la battaglia anticattolica fu aperta fin dal 1691 da Giovin Vincenzo Gravina con il suo libro Idramistica ossia la corrotta disciplina morale e questa battaglia fu continuata da molti scrittori come Niccolò Caravita autore del libro nullumius pontificis il regno neapolitano che è del 1717 il partito intellettuale spinse la corsa borbonica a realizzare le seguenti riforme di carattere ecclesiastico in realtà cioè che entravano nel campo ecclesiastico imporre la nomina regia dei vescovi ridurre i privilegi e l'immunità ecclesiastiche esautorare il foro ecclesiastico abolire la decima e anzi tassare beni e rendite ecclesiali abolire il tribunale inquisitorio del santo ufficio abolire la compagnia di Gesù che avvenne nel 1767 il sacerdote oratoriano Giovanni Andrea Serrano segretario dell'accademia napoletana aveva chiesto la soppressione l'esilio e la sconfisca dei beni gesuitici già nel 1758 cioè sei anni prima che lo facesse in Francia d'Alembert nel suo di bello la destruzione dei jesuit che è del 1764 perfino i concordati con la Santa Sede mirarono principalmente a ridurre l'influenza ecclesiastica nella politica interna e assicurare allo Stato un pieno controllo sulla chiesa pertanto la monarchia mantende l'incarico di favorire la religione cristiana e di proteggere la chiesa cattolica come stabilivano i concordati ma in cambio pretese di servirsene servirsi della chiesa cattolica come strumento di dominio politico assumendo non solo i settori di competenza mista tra il foro spirituale e quello temporale ma anche alcuni settori religiosi di competenza di esclusivamente ecclesiastica si trattava di una forma mitigata di cesaro papismo che tendeva ad asservire la gerarchia cattolica ostacolandone la libertà di missione l'amate Antonio Genovesi è forse la più famosa figura di questo ambiente del partito intellettuale luministico Genovesi pur impegnato nel campo politico e soprattutto economico in un certo senso fu l'invento o l'ispiratore di quella che oggi chiamiamo economia politica fin dall'inizio Genovesi si prefissò di diffondere una religione morale liberata dal ricamo che vi aveva imposto l'impostura dei preti e l'ignoranza dei popoli è una frase sua Genovesi partì dal presupposto che anche questa è una frase sua gli uomini possono salvarsi senza alcuna cognizione di Gesù Cristo ad opera della sola legge di natura purché la osservino con onestà una posizione che come sapete ha fatto molta fortuna la protezione del giurista fra Gianni e soprattutto del vescovo Celestino Galiani evitarono al noto abate Genovesi condanne da parte del Sant'Uffizio e di Roma che altrimenti sarebbero state inevitabili più uno dei casi del Genovesi però fu Pietro Giannone nella sua celebre opera Il Triregno del 1734 Giannone tentò di secolarizzare la divina rivelazione diffondendo una lettura storicizzata e razionalistica delle sacre scritture anche qui sull'onda di certe tesi olandesi tipo Spinoza o inglesi alla vera religione cristiana Giannone oppose una vaga religiosità naturale ossia ragionevole moralistica e tollerante che poteva essere facilmente asservita al potere politico dominante alla cultura teologica contro riformistica Giannone oppose una cultura scientifica e razionalistica che poteva diventare strumento di giustificazione e di propaganda in favore della ragione di stato alla morale cristiana rivelata Giannone oppose una vaga moralità naturale ridotta alla mera solidarietà umana e alla promozione dei diritti dei più deboli e anche questa è una tedi che ha avuto un notevole successo insomma la chiesa perdeva il diritto di intromettersi nel dibattito non solo nel dibattito politico ma anche quello filosofico e scientifico la chiesa doveva solo ritirarsi nei templi per tornare alla originaria semplicità e riservatezza evangelica qui si vede molto evidentemente l'influenza del protestantesimo liberale su questi intellettuali luministi non a caso l'opera del Giannone verrà diffusa in tutta Italia nella metà dell'ottocento dal politico risorgimentale Pasquale Stanislao Mancini in qualità di ministro della pubblica istruzione questa volta in favore non della caduta monarchia borbonica ma della già insediata monarchia sabauda vediamo un altro punto molto importante la riforma dell'educazione popolare ed è un argomento che sta in bilico tra l'aspetto politico e quello ecclesiastico perché bisogna ricordarselo a quei tempi nel Regio di Napoli ancora l'educazione popolare era in mano soprattutto del clero quindi il partito dell'intellettuale sperava di rieducare ed emancipare questo popolo riformandolo in base a una religione naturale una filosofia razionale una morale civile un diritto egualitario e una politica assistenzialistica tutto elaborato a tavolino dai pedagoghi di Stato naturalmente questa pedagogia di Stato doveva essere organizzata dalla nobiltà progressista e promossa dal monarca illuminato essendo convinti che ogni male provenga dalla ignoranza e dalla povertà c'è da una parte una istruzione culturale e civile fondata su una pretesa cultura italica di matrice greco-romana napoletana però purificata dal contributo ecclesiastico e dall'altra un miglioramento delle condizioni economiche avviato dal mercantilismo la loro collaborazione tra l'aspetto culturale e quello politico-economico avrebbe reso il popolo cosciente della propria dignità e dei propri diritti e capace di emanciparsi dalla superstizione religiosa e dalla tirannia politica bisognava prendere coscienza che il compito della classe dirigente era rendere conveniente la virtù giustificata da una morale scientifica basata su meccanicismo e matematismo per cui il comportamento dei popoli è paragonabile al moto delle sfere celesti per coloro che erano recalcitranti all'ordine pubblico e all'utilità sociale non c'erano più scuse per cui poteva abbassare la repressione operata dai provvedimenti penali ma questa pedagogia statale era comunque verticistica ed elitaria il popolo restava oggetto non soggetto della grande riforma illuminista riforma riassumibile nel moto francese tutto in favore del popolo ma niente fatto dal popolo il progetto per esempio dell'intellettuale e giurista famoso Filangeri prevedeva di sostituire la filosofia con una metascienza che conglobasse le nuove scienze sperimentali quelle morali e quelle sociali su questa base egli voleva fondare una monarchia illuminata e assoluta libera da ingerenze del clero e dagli impacci della nobiltà basata sul consenso dei popoli e soprattutto guidata dagli intellettuali si trattava anche di sostituire gli arcana iuris con una scienza secolarizzata del deritto al quale Filangeri dedicò ai libri del suo famoso tomo scienza della legislazione 1780 scettico sulla morale tradizionale e fiducioso nella forza pedagogica delle leggi Filangeri affidava il riscatto all'emancipazione del popolo all'obbedienza alle leggi varate dal potere assoluto e dalla formazione culturale animata dalla classe intellettuale riprendendo il modello della repubblica di Platone egli credeva che il potere spettasse al partito degli intellettuali illuminati culto civico e morale sociale quindi la virtù si sostituiva alla ragione di stato le idee dei Filangeri furono poi approvate dai luministi come l'americano Benjamin Franklin e soprattutto dal circolo milanese attorno alla rivista Il Caffè in realtà veniamo qui a un aspetto più critico in realtà gli intellettuali luministi che parlavano così tanto del popolo avevano un terzo nemico oltre alla gerarchia ecclesiastica e alla nobiltà un nemico non apertamente dichiarato però sottinteso e questo nemico era proprio il popolo napoletano così come realmente esisteva e viveva al loro tempo negli scritti e discorsi del partito illuminato emergono pesanti giudizi sul popolo visto come vittima della superstizione e della tirannia certamente ma proprio per questo considerato debole ignorante credulone immorale insomma barbaro ad esempio l'economista Galanti riteneva che il popolo napoletano fosse superficiale vanesio ignorante superstizioso Genovesi riteneva che la plebe rurale fosse generalmente priva di sensibilità morale e anche di interessi spirituali tanto che paragonava questa plebe napoletana alle tribù selvatiche dei boscimani e degli ottenotti da non molto tempo scoperti dalle esplorazioni geografiche tutt'oggi alcuni studiosi dell'illuminismo napoletano come Giulio De Martino per esempio osano paragonare la situazione del popolo minuto settecentesco nel napoletano alla situazione delle attuali favelas brasiliane non meraveglia quindi che nel 1787 l'economista marchese Giuseppe Palmieri proponesse al consiglio del regno una strana operazione riformatrice e rieducatrice per esempio quella di redistribuire la plebe napoletana nella penisola redistribuirla geograficamente in base a criteri di spazio criteri geografici utili per favorire lo sviluppo economico delle plebi stesse per fortuna questa proposta fu del tutto elusa gli inumisti più estremisti speravano che col tempo questo popolo così ignorante e debole e superstizioso avrebbe ripudiato la sotera del clero e avrebbe favorito il cambiamento di regime per alcuni era un cambiamento di regime all'interno della monarchia ma poi per altri si prospettò un cambiamento di regime dalla monarchia alla repubblica le vicende note della repubblica napoletana del 1799 dimostreranno poi quanto erano nel tutto infondate illusorie queste speranze del partito illuminato facendo un bilancio dell'esperimento illuminista di giacobino di fine secolo di fine settecento lo storico progressista Giulio De Martino conclude testualmente l'ideale repubblicano calato nella realtà attraverso la pur generosa eloquenza neoclassica e la assolutizzazione antistorica del modello della repubblica ideale si è tradotto in un tragico fallimento ma per i protagonisti di quell'esperimento illuminista prima monarchico poi giacobino esperimento durato un secolo l'intero settecento la colpa la colpa del fallimento era sempre comunque attribuita al popolo arretrato è insensibile il giacobino mario pagano ne concluse che frase sua per la continua malvagità degli uomini e per la tirannia dei governi mi è odiosa la vita alla fine il giacobino pagano fu accontentato perché i san felici del 1799 lo impiccarono nella piazza del mercato a napoli in quanto uno dei cospiratori antimonarchici il giurista Francesco Lomonaco poco dopo dichiarò anche qui testuale che gli italiani degradati e snaturati dal peggiore e più esecrando dei culti ovviamente quello cattolico non sono stati più né uomini né cittadini constatando il fallimento delle rivolte carbonare di inizio ottocento il povero Lomonaco nel 1830 si suicidò e ora vediamo quali furono le conseguenze dell'illuminismo nel regno napoletano le conseguenze buone cioè le riforme che erano certamente opportune le abbiamo già prima descritte il partito degli intellettuali napoletani svolse un ruolo che può essere paragonato a quello svolto in Francia da prima all'inizio del 1300 dai giuristi i giuristi di re Filippo il Bello e poi alla fine del 700 invece fu svolto dai filosofi i filosofi illuministi su re Luigi XV di Francia infatti sebbene i tempi e i modi molto diversi queste tre fazioni intellettuali prepararono la crisi o il crollo dei loro regni un giudizio così severo è ampiamente giustificato dalle conseguenze storiche delle riforme promosse dal partito degli illuminati napoletani dal punto di vista della riforma morale l'impegno illuminista fu un mezzo fallimento lo stesso statista toscano talucci il grande giurista e soprattutto governatore del regno alla fine del suo ministero napoletano ha mise deluso nel 1777 ho servito trenta e più anni la vostra nazione dice vostra perché lui era di origine toscana come abbiamo visto ma il furto non ho potuto spegnerlo non la contemplazione non l'inerzia non l'iniquità cosa vuol dire Tanucci dicendo non sono riuscito a spegnere la contemplazione intendeva non sono riuscito a sopprimere la vita dei monasteri e per inerzia intendeva dire non sono riuscito a spegnere la ignavia del popolo napoletano ancora dedito al culto alle feste eccetera eccetera a breve scadenza le citate riforme di Carlo III di Borbone diedero maggiore potere alla monarchia certamente o per dir meglio diedero maggior potere alla nascente burocratia statale e governativa però a lunga scadenza quelle stesse riforme contribuirono a isolare il re a isolarlo non solo dalla nobiltà e dal clero che ostacolavano ma anche da quel popolo che pretendevano di favorire che queste riforme pretendevano di favorire perché proprio nobiltà e clero svolgevano il delicato ruolo di mediatori tra il re e il popolo ciò mise in crisi l'equilibrio di quell'ordinamento civile fondato sul patto sociale tra le classi che per secoli aveva costruito e stabilizzato il cosiddetto ancien regime non solo ovviamente nel regno delle due Sicilie ma in tutta Europa insomma ne uscirono corrose le basi del regno soprattutto le basi culturali e religiose del resto se una monarchia agisce come se i suoi interessi fossero incompatibili con quelli della chiesa c'è il pericolo che il clero a sua volta agisca come i suoi interessi fossero incompatibili con quelli della monarchia se un re non riconosce più i diritti spirituali della chiesa c'è il pericolo che la chiesa stessa e il popolo che ne dipende spiritualmente e moralmente allora volta non riconoscano più i diritti temporali del re in tal modo si pongono pericolose premesse di un conflitto tra la corte da una parte e il clero dall'altra dal quale possono avvantaggiarsi solo i nemici di entrambi e questo era l'inghippo che avevano in mente gli intellettuali più consci e più radicali dell'inunismo europeo oggi sappiamo come andò a finire quella riforma rivoluzionaria che dalla Francia passò poi in Portogallo in Spagna e in Italia in tutta Italia poi dopo il regalismo assolutista e centralizzatore isolò il monastro arca dal popolo e preparò la rivolta la rivolta prima nobiliare e poi borghese sfociando infine nella rivoluzione francese e nel crollo delle monarchie di molte monarchie dell'Europa meridionale la politica riformatrice borbonica fu travolta dalle sue stesse conseguenze estreme ossia dall'invasione giacobina del 1698 e dalla rivoluzione cedro-papista imposta da Napoleone mediante i suoi complici cioè i giacobini napoletani nel 1830 ossia monarchia napoletana già crollata ma poi anche restaurata il padre Angelo Antonio Scotti ne trarrà un insegnamento da affidare ai suoi allievi illustri nel suo dotto e acuto libro intitolato Teoremi di politica cristiana e gli rivolgerà al suo allievo un allievo illustre il duca di Calabria poi re Ferdinando di Borbone la seguente analisi riguardante i ministri infidi infidi nel senso di doppi e infedeli del monarca stesso ascoltiamo la dichiarazione di questo illustre teologo napoletano figurano costoro di sostenere gli interessi del trono con sommo zero e di bramare lo splendore della sovranità a tal scopo tentano di abbattere l'autorità della chiesa ma infine vogliono deprimere ambedue le potestà monarchica e religiosa e far cadere l'una sulle rovine dell'altra come ci ha mostrato l'esperienza degli ultimi tempi quindi un consigliere politico che insigna al sovrano di violare i sacri canoni e di non far conto di chi li ha stabiliti è propriamente l'uomo che con blandi e finti discorsi parla all'amico suo mentre gli spande la rete innanzi ai piedi questa è citazione del Sacra Scrittura Proverbi 29.5 e continua il padre Scotti se talia dunque il loro carattere non è da stupire che esso sia si finalmente scoverto nelle ultime rivoluzioni d'Europa tutti i cosiddetti regalisti cioè quei canonisti per interesse che fingevano di fare la causa dei re per nascondere sotto questa maschera l'odio contro la chiesa e il desiderio di ingrandirsi con la adulazione quando venne il tempo della tentazione cioè quando i re si videro sbalzati dai loro troni trovaroni fieri repubblicani e la giustizia dei re medesimi dove poi condannarli ai giusti supplizi e qui concludendo il padre Scotti allude a quei giacobini tra cui se non ricordo male due vescovi che furono giustiziati quando i sanfedisti triunfarono dopo la rivoluzione del 1799 paradossalmente gli storici meridionalisti antiborbonici esaltano il regno di Carlo III ma non tanto per i suoi pregi quanto per i suoi difetti essi elogiano il re perché lo considerano come sovrano inconsciamente illuminato ossia influenzato dal recente illuminismo e quindi lontano precursore di quella rivoluzione liberale e risorgimentale che nel 1861 abbatté definitivamente il regno delle due Sicilie come abbiamo visto questo giudizio è vero solo in parte Re Carlo III non poteva certo prevedere che pochi anni dopo la sua morte le idee che tollerava e le riforme che favoriva avrebbero prodotto il crollo dei regimi borbonici il crollo dei regni borbonici da quello francese a quello spagnolo noi oggi lo sappiamo ed è sleale giudicare il passato col sendo di poi ma una fra le grandi utilità dello studio della storia consiste appunto nell'imparare dagli errori dalle sconfitte del passato per costruire un futuro che almeno non ricada in questi errori e non ripeta le gravi o più gravi ancora conseguenze che abbiamo descritto nella nostra relazione grazie a tutti della pazienza con cui avete ascoltato e speriamo di risentirci e soprattutto di rivederci in tempi migliori grazie a tutti